buonasera abbiamo ripreso con una certa regolarità e frequenza dopo un periodo di sospensione i nostri webinar scientifici che come sapete sono webinar del laboratorio di intelligenza e sicurezza dell'Università Federico II di Napoli. I nostri webinar come ormai è noto a tutti coloro che ci seguono ormai da più di un anno anzi più di un anno e mezzo sono strutturati secondo vari settori questa sera torniamo alla presentazione dei libri congiungendo la presentazione dei libri con il settore dell'arte che noi abbiamo già più volte frequentato con Marco Simone e che questa sera ci hanno graditissima ospite che ci presenterà il suo libro. Io ho detto tutto mi riservo di intervenire alla fine del dibattito lascio la parola a Simone che è un po' il conduttore di questa discussione. Vai Simone. Grazie, grazie Alessandro. Questa sera presentiamo appunto il libro di Antonella Brin, La Dama Bianca che è un indedio che è stato un ritrovamento quindi abbastanza importante e poi l'autrice ci darà tutte le traiettorie dalla genesi di questo ritrovamento fino a tutte le specifiche e chiederei prima di passare al cuore della presentazione a Marco di fare una introduzione sia all'autore su punto Silvestro Lega che è una breve introduzione di Antonella e di questo libro che lui conosce molto bene e dopo di che, quindi dopo questi due passaggi, quello di Marco e quello di Antonella che è l'autrice che presenterà i contenuti in libro, lasceremo spazio al dibattito quindi alcune domande che io ed Alessandro e Marco porremo all'autrice relativamente a questo interessante volume che è ancora molto molto attuale anche se è scritto alcuni anni fa ma risulta di grandissima attualità. Io passerei a questo punto la parola a Marco per una presentazione generale di Silvestro Lega e poi una breve introduzione al testo che presenterà Antonella. Grazie Marco e a te la parola. Grazie, grazie Simone, intanto ringrazio appunto Antonella per aver accettato questo invito perché questo è un libro importante, non è un libro di ultimissima diciamo pubblicazione ma è un libro che non aveva ancora raggiunto secondo me quel tavolo non solo scientifico ma anche appunto accademico così ampio come merita e quindi qua ecco io ringrazio molto Antonella per aver prestato questa attenzione anche alla Federico II di Napoli perché credo che una riconsegna al catalogo appunto di quest'autore, di quest'artista insomma meraviglioso quale è stato appunto Silvestro Lega non è un passo solo nella riconfigurazione di tutta l'esegesi diciamo della produzione quindi della poetica del maestro il quale comunque ha vissuto dei periodi, dei periodi estremamente precisati anche da quello che è chiaramente il carattere così ben definito nella nella premessa appunto alla questa questa catalogo di riattribuzione ma romagnolo, repubblicano, bisbetico, intransigente, sensibile, affettuoso, tutte queste accezioni, questi termini diciamo caratteriali, identificano precise fasi poetiche come dire, sono momenti in cui egli vive e vive prima vicino ai macchiaioli, poi se ne discosta, poi vive un periodo di isolamento sia dal fratello con cui litiga poi insomma nella piagentina, poi si avvicina a questa famiglia a cui è molto legato, si di questa meravigliosa fanciulla e vive in questo periodo appunto sensibile e affettuoso dopo che la fanciulla muore di Tisi e le circostanze sono più belle come quelle di un secolo, di un secolo duro, di un secolo amaro che Lega ci invita a conoscere con una rappresentazione verista che non è assolutamente una chiave dialettale di quello che normalmente si considera la grande lingua dell'impressionismo. Ecco in questo caso non è come Verga, ci si collega alla pagina di Verga per parlare di fattori, i giovani fattori di esponente forse più conosciuto in questo senso della macchia, del gruppo dei macchiaioli, perché esattamente, scusate un movimento forse non lo si può definire, ma sicuramente è il più grande momento diciamo della produzione vittorica italiana del XIX secolo, perché è un momento di grandi rivoluzioni, nel senso che ci si distacca dall'accademia, i macchiaioli non nascono in una salotto, non nascono neanche sotto appunto quelle che vengono considerate vento, le spira ormai dell'accademia, nascono in un caffè, in un caffè oggi chiuso al caffè Michelangelo, a Firenze, dove ci sono ormai i segnali insomma del vento, delle passioni, che sono passioni politiche, che sono la passione della seconda guerra di indipendenza, dal cui fronte tornerà anche Silvestro Lega, che sono le passioni che vengono anche da Parigi e in questo caso Firenze non è una sorella minore. A Parigi ad esempio andranno due macchiaioli che poi non saranno più riconosciuti come macchiaioli, ad esempio la storia dell'arte, Bollini e Zan Domeni, che vengono tossiati dagli impressionisti dei minori, ma oggi per fortuna, grazie a questa retribuzione, a queste coraggiose opere appunto di riconoscimento storico, insomma se ne studia, se ne scopre la qualità e l'altezza, insomma, e la statura di questa generazione, che è una generazione controcorrente, che si muove anche grazie a un maestro pensè come Diego Martelli dietro di loro, grande intellettuale, grande animatore sociale naturalmente, insomma c'è una, io credo che il futurismo a Milano non avrebbe avuto una modalità molto simile, per dire, perché Marinetti sta a Martelli diciamo, in questo senso, con una cinquantina, 40 anni di distanza, diciamo 50 anni di distanza, insomma, una prima grande avanguardia, possiamo considerare, io sarei del parere di scrivere questo gruppo più che in una scuola in una prima avanguardia, che non ha, però lasciato il segno, non ha costruito una scuola, così come in parte anche il futurismo non riuscirà a fare, mentre la Francia in questo senso parla di scuola, perché, e credo, questo è uno dei meriti, dei tanti meriti di questo libro, perché quando si parla di scuola, oggi si configura un'idea in realtà di maniera. Ecco, in questo senso invece la grande lezione di, ovviamente di Silvestro Lega, ma di tutti i macchiaioli, è una lezione anti-accademica, una lezione rivoluzionaria, una lezione intima, una lezione sensibile, una lezione secondo me di fulgorante attualità, fulgorante attualità. E passo la parola ad Antonella perché mi sembra che già abbia detto fin troppo, per quanto invece ci potrà introdurre lei rispetto a questo mistero di questo quadro, insomma. Grazie Antonella, ancora. Eccomi, grazie a te Marco, prendo, guarda, lo spunto da quello che tu hai detto, esattamente un'avanguardia, leggendo le parole che Ettore Lega aveva fatto scrivere sulla prima tomba di Silvestro, quando Silvestro muore a Firenze nel 1895, povero, poverissimo, malato, con un cancro allo stomaco, quasi cieco per i problemi della vista che aveva e che aveva da molti anni, tra l'altro. Ettore detta questa frase molto bella che è non mendicò fama né mercanteggiò nell'arte, ma per essa, come per la patria, coscienzioso, schietto ed altero, combatte strenuamente all'avanguardia sempre. E quindi è proprio l'avere intuito anche da parte di Ettore che il fratello, pur con tutte le vicissitudini che aveva subito nel corso della sua vita, era rimasto all'avanguardia, davanti a tutti, tenendo fede al, diciamo, al suo amore patriottico, all'essere andato a combattere a Cortatone, a Montanara, quindi all'avanguardia rispetto agli altri, anche perché lui era più anziano di tutto il gruppo. E poi all'avanguardia dell'arte, perché non ha mai mercanteggiato per l'arte, non ha mai rinnegato i suoi ideali, non si è mai venduto, anche a rischio, appunto, come è stato per tutta la sua vita, di morire senza avere una sua opera esposta alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, a cui lui teneva tantissimo. Il mio libro, giusto per presentarlo un attimo, può apparire insolito perché è un libro che verte su un solo dipinto ed un dipinto che io ho incontrato all'interno di una collezione privata, molto piccola ma preziosa. E l'incontro con questo dipinto è stato per me affascinante, prima di tutto per la bellezza del dipinto. Bellezza che non è stata messa in discussione da nessuno di quelli che l'han vista, anche di addetti ai lavori, che hanno immediatamente riconosciuto il dipinto è bellissimo, il dipinto giustifica il libro per la sua bellezza. E poi, oltre la bellezza, quello che mi ha affascinato del dipinto è i numerosi interrogativi che poneva. Cioè, guardando un dipinto di questo tipo, ma anche per un profano è immediatamente visibile la collocazione macchiaiola. Cioè, non c'è dubbio che il dipinto si presenti immediatamente come macchiaiolo. Io ho avuto l'intuizione è macchiaiolo, ma è più che macchiaiolo, è di lega. E ovviamente questa intuizione ho cercato subito di reprimerla in qualche modo, cioè di non lasciarmi andare a questo entusiasmo, perché nella storia dell'arte bisogna essere rigorosi, bisogna essere scientifici, bisogna averle prove e bisogna avere tante cose. Però il dipinto ho continuato a parlarmi e il testo è strutturato in capitoli che sono un po' concatenati l'uno all'altro e ciascun capitolo, tranne quello iniziale, questo punto intitolato romagnolo, repubblicano, bisbetico, intransigente, sensibile, affettuoso, che è una sorta di omaggio a Lega, fatto, giusto per non ripetere i dati biografici di Lega, fatto attraverso le parole di tutti quelli che l'avevano conosciuto o di quelli che di lui avevano scritto, perché questi sei aggettivi in apertura sono di Mario Tinti e si trovano nel catalogo, nel saggio introduttivo al catalogo della mostra di Modigliana del 1926, cioè fatta per il centenario della morte dell'autore. Dunque dicevo, questo è il primo capitolo introduttivo, ma gli altri con cui io prendo man mano in esame il dipinto, sono concatenati l'uno all'altro perché fanno riferimento al tipo di ricerca che io ho fatto, cioè che cosa ho cercato? Al di là di mantenere fissa la mia intuizione e mantenere fisso un legame con un dipinto che io avevo in mente, che dopo presenterò con un dipinto di Lega, che secondo me rendeva indubitabile l'appartenenza di questo mio, che ho chiamato, giusto per trattenermi, il ritratto di giovane signora in piedi e poi man mano nel corso del testo ho cominciato a chiamarla Dama Bianca e poi anche questo spiegherò perché e poi mentre all'inizio parlo dell'autore, dell'artista eccetera, mi viene spontaneo successivamente chiamarlo Lega e fare riferimento a Lega. Cioè è stato come un avvicinarmi mantenendo le distanze in principio ma poi lasciandomi travolgere successivamente. E se adesso Alessandro gentilmente mi fa vedere l'immagine successiva, ecco così guardiamo il dipinto. Allora il dipinto come vedete rappresenta una giovane donna in piedi davanti ad una porta aperta di cui si vede un unicanta e farei notare, non so se in queste dimensioni è possibile vedere, che in quest'unicanta piuttosto semplice è definita con una precisione fiamminga la toppa della chiave. È un elemento semplice ma osservato con una minuzia tale da essere quasi fiammingo. Nella stanza non c'è niente di arredo ad eccezione della sedia su cui sono appoggiati gli abiti che adesso vedremo. La ragazza è posta di tre quarti, riceve a pieno tutta la luce che viene da una fonte esterna della stanza e questa luce oltre a illuminarla completamente crea un'ombra sul muro, un'ombra molto suggestiva. L'ambiente per questi pochissimi elementi che diciamo tengono fede a quel francescanesimo che è stato notato tante volte nei dipinti di Lega, una semplicità francescana, una riduzione al minimo degli elementi e soprattutto nella fase di Piagentina perché va circoscritto anche il periodo preso in esame. In questo francescanesimo di ambientazione si notano immediatamente la pavimentazione in piastrelle di cotto che è ricorrente in tantissimi dipinti di Lega, le modanature alle pareti tipiche delle case borghesi dell'epoca, medio borghesi diciamo. I batelli si erano rifugiati a Piagentina quando Spirito, dopo la morte del padre, si era ritrovato praticamente senza bene e si era visto. Il padre aveva già venduto lo splendido palazzo che possedevano in via Sant'Eugenio a Firenze, un palazzo abitazione in cui aveva stabilito la sua tipografia, la sua calcografia. Il padre di Spirito che si chiamava Vincenzo aveva anche dato il via alla costruzione delle statue per decorare gli uffizi delle 28 statue degli uomini famosi toscani, aveva creato una sorta di colletta, si era indebitato e poi aveva dovuto vendere tutto. Per cui Spirito con suo fratello Achille si erano trovati in condizioni economiche completamente diverse da quelle a cui erano abituati e si erano trasferiti in campagna in questo villino che era come tanti altri allora la periferia di Firenze con il vantaggio di avere il contatto con la campagna, di aver vicino l'Arno, di aver vicino l'Africo e siccome le figlie di Spirito, già almeno Ernesta, già mostrava i segni della malattia che poi colpirà tutta la famiglia, tutte le donne di casa Batelli lasciandone viva soltanto una, Spirito probabilmente un po' per motivi economici, un po' per motivi di salute delle figlie, ne aveva cinque figlie, decide di trasferirsi lì. e questa stanza nella sua semplicità, nell'essenzialità ci parla di questa borghesia perché se facciamo caso l'unico arredo visibile è quella sedia che è una sedia chiavarina di quelle con l'impagliatura molto sottile, non una sedia rustica come Lega introdurrà in altri dipinti collocandole esattamente rispetto all'ambientazione degli altri dipinti sto pensando all'educazione al lavoro che è bellissimo e che ci mostra Virginia di spalle dopo lo vedremo per altri motivi, in cui la sedia è una sedia rustica di legno questa è una sedia chiavarina, laccata di nero lucido e questo nero lucido fa il paio con tutti quegli altri tocchi magistrali di nero che vengono introdotti dall'artista in questo candore della figura che io ho chiamato Dama Bianca perché? Perché l'abito è bianco ma ha dei ricami in nero allo scollo, alle maniche ha una grande fusciacca di seta nera che è stretta in vita da una fibbia lo faccio notare perché questa è la moda tipica toscana ed è una caratteristica ricorrente in tantissime opere di lega a cominciare dal canto dello stornello e tante altre questa fibbia argentata che segna un po' questa moda toscana che certo non può competere con quella parigina ma che ha le sue caratteristiche e poi sulla sedia una cappa di seta mi rendo conto che visto dal vero il dipinto può mostrare questi particolari ma credo che siano visibili anche così nella riproduzione questa cappa di seta che prende tutta la lucentezza della finestra e ha delle variazioni argente così come la fusciacca della ragazza e ancora sulla cappa di seta una sciarpa anche di seta con ricami in nero di un rosa particolarissimo che io trovo identico a quello della donna con lo scialle rosa cioè un rosa aranciato salmone che ha una tonalità particolare e che diventa la nota calda in questi contrasti di bianco e di nero che caratterizzano la figura e poi ancora il nero la capigliatura scura gli occhi scuri le sopracciglia folte della ragazza e l'oscurità della porta aperta che in questo modo ci mette in evidenza tanto il viso, tanto andando avanti nelle immagini vedremo gli ingrandimenti e si noterà meglio tutto quello che sto dicendo tanto il viso quanto l'espressione quanto lo sguardo che ha uno sguardo sereno, dolcissimo, diretto verso l'osservatore e tranquillo e un accenno di sorriso e anche questo a me ha fatto immediatamente pensare alla definizione del Tinti relativa alle ragazze di casa Batelli quando lui dice le dolci e tristi donne che vivevano con Lega nel villino di casa Batelli perché è un sorriso accennato ma c'è una sorta di mestizia che caratterizza anche, secondo me, forse lo dico in maniera un po' azzardata anche il sorriso di Ettore Fanciullo il bellissimo dipinto che è a Brera è un sorriso appena accennato e c'è una sorta di mestizia anche in quello e poi se riusciamo a tirar su l'immagine in modo da vedere il retro ecco, innanzitutto il dipinto no, lui, mandiamolo giù il Banti e guardiamo, se guardiamo la tela il dipinto non è stato mai restaurato io l'ho visto così così è stato anche esposto a Modigliana quando ho presentato il libro il retro ci mostra appunto tutte le pecche di questa tela la vecchiaia dell'opera e poi quelle due particolari macchie sbiadite di inchiostro sul telaio che potrebbero essere anche una sigla però sono sbiadite e non sono leggibili e così con tutti i segni dell'età il dipinto comunque, secondo me, mostra forse ancora meglio la sua bellezza e allora, dicevo, sono concatenati adesso il dipinto l'abbiamo presentato sono concatenati i capitoli che cosa ho cominciato a fare ho cominciato a vedere chi altri avesse dipinto immagini analoghe a questa ritratti con la sedia di fianco al personaggio ritratto con o senza gli abiti appoggiati e Alessandro, grazie andiamo, adesso andiamo giù e abbiamo questi dipinti che sono entrambi di Boldini del Boldini che frequenta i Macchiaioli per un brevissimo tempo ma che comprende immediatamente la portata di questo movimento e si adegua ad alcune delle loro scelte pur mantenendo intatta la sua personalità perché se facciamo il confronto col dipinto precedente o con tanti altri dipinti di Lega vediamo che questo ritratto questo signore con i baffi è il pittore Cristiano Banti che era uno dei pochi privilegiati Macchiaioli in possesso di denaro come si vede anche dall'ambientazione dalla posa era anche aristocratico è stato forse poco apprezzato come pittore pur essendo un pittore molto bravo ma è stato veramente un amico fraterno per gli altri macchiaioli li ha aiutati aveva raccolto tantissime lettere di suoi colleghi che gli scrivevano chiedendo aiuto e lui alla sua morte ha voluto che queste lettere venissero bruciate per non infangare la memoria dei suoi colleghi fortunatamente ne sono state salvate soltanto 40 ma questo per dire che personaggio fosse Cristiano Banti e Boldini ce lo mostra innanzitutto questi dipinti sono piccoli sono di dimensioni analoghe a quello della Dama Bianca e lui però cosa fa? a differenza del precedente crea l'ambiente intorno al personaggio tant'è vero che per i dipinti di Boldini si parla di ritratti ambientati perché c'è tutta l'ambientazione che contribuisce a definire il personaggio già chiaro di per sé la sua eleganza la giocca di velluto le scarpe lucide la tuba lucente appoggiata di fianco sulla poltroncina il bastone il sigaro ma poi la carta da parati i quadri i mobili il tappeto orientale e l'altra immagine questo è un dipinto del 65 quindi Boldini è appena arrivato a Firenze tra poco nel 67 partirà per fare la prima puntata per Parigi poi tornerà poi deciderà di restare a Parigi e avrà la gloria e il successo che sappiamo tutti questo secondo dipinto è invece il figlio di Cristiano Banti Leonetto Banti è del 66 il dipinto le dimensioni sono sempre analoghe anche questo ritratto ambientato il bambino con un bellissimo elegantissimo abito infantile a sottili righine celesti è appoggiato a una sedia poltroncina laccata di nero lucido agli stivaletti neri ha un cappellino di velluto nero e quindi anche Boldini accosta questi particolari in opposizione violenta con il chiarore dell'abito questi particolari ma quanto è diverso dalla semplicità francescana della Dama Bianca di Lega è un bambino che stava giocando a di fianco alla palla in un bel salotto elegante con la trapezzeria damascata i quadri il divano di velluto e altro e poi dopo aver esaminato questi dipinti che sono vicinissimi cronologicamente per motivi che dopo dirò al ritratto della Dama Bianca ho cominciato andiamo avanti Alessandro Grazia ho cominciato a esaminare anche le fotografie prendendo spunto da questo ecco questo è un titolo che è una citazione vediamo il titolo fece di tutto a quel che pare evidentemente anche dei ritratti dalle fotografie è una parte di un articolo scritto da Nino Lorica il 22 agosto del 1926 e devo dire che a quanto ho letto ho letto tutte le recensioni dell'epoca relative alla mostra del 26 che tra l'altro ho avuto la fortuna di trovare in originale a Modigliana quindi avevo proprio i ritagli di giornale e potevo leggerli questa è l'unica recensione negativa di tutte le recensioni positive che erano state fatte su Lega sull'artista perché Nino Lorica ritrova che Lega non avesse un indirizzo interiore come uomo e che la sua arte fosse un'arte tentata sperimentata più che raggiunta non l'aveva mai raggiunta secondo Nino Lorica scrive sull'avvenire e poi per concludere questo discorso negativo dice fece di tutto quel che pare evidentemente anche dei ritratti dalle fotografie e anzi dice anche una la colorò ed effettivamente esiste questa fotografia colorata era presso gli eredi muini a Modigliana e rappresentava questo farmacista locale allora per poi concede qualche cosa a Lega dicendo certo che ridursi a far questo non dovete essere bello per per Lega arrivare ad abilirsi a tal punto non dovete essere bello e allora mi è venuto in mente di cercare anche qui certosinamente tra le numerosissime fotografie relative ai macchiaioli tutto ciò che magari potesse essermi utile e andiamo a vedere questa foto per favore e nel civico archivio fotografico del castello di Milano nel fondo collezione vitali ho trovato questa fotografia di bambina col grembiule nero questo è il titolo della fotografia questa fotografia poi le due seguenti che vi farò vedere appartengono al fondo collezione vitali perché il grande collezionista lamberto vitali il fortunato acquirente del ritratto di ettore fanciullo che poi è passato a brera aveva raccolto un numero incredibile di fotografie relative ai macchiaioli e le aveva unite al fondo signorini per cui fino a poco fa tutto questo materiale era la marrucelliana di Firenze poi per motivi lasciti ereditari a Milano al civico archivio del castello è rimasto il fondo vitali mentre il fondo signorini è rimasto la marrucelliana di Firenze allora a Milano dicevo ho trovato questa fotografia di bambina che è una fotografia fatta dal fotografo Emilio Mazza che era un fotografo risorgimentale quasi quasi coetaneo di Lega nato negli stessi anni è morto un po' prima di Lega morto nel 90 fotografo risorgimentale ho fotografato battaglie soldati eccetera e molto probabilmente questa come altre foto del fondo vitali era nota al gruppo macchiaiolo e allora mi ha colpito questa foto perché è impostata esattamente come il ritratto di giovane donna in piedi cioè la bambina è messa in piedi appoggiata a una poltroncina stavolta è in posizione più frontale non di tre quarti come l'altra davanti a una porta aperta quindi l'oscurità della porta alle sue spalle e lo stipite della porta è spostato sulla destra e l'altra analogia è che in tutte e due sia nella fotografia sia nel dipinto l'asse mediano della composizione attraversa esattamente a metà le due figure sono analoghe se nel libro le ho accostate qui non sono accostate ma guardandole c'è proprio questa identica composizione lo stesso studio della luce ovviamente ognuno lo risolve con i suoi mezzi tecnici il fotografo con la fotografia il pittore con i colori e la luce che riesce a dare i colori e c'è da notare anche che la bambina è esattamente l'inverso quanto a colori la bambina è tutta vestita di scuro e ha i tocchi bianchi del colletto dei pantaloni che fuoriescono dalla veste e però nel caso del fotografo la luce proviene da destra infatti l'ombra viene proiettata a sinistra mentre nel caso del dipinto l'ombra viene proiettata alle spalle della donna e poi Alessandro e le altre due sempre guardando nel fondo Vitali mi sono imbattuta in queste due fotografie che qui al castello sono indicate semplicemente col titolo ritratto maschile sono due carte de visite che sono tipiche dell'epoca e sono tipiche della raccolta delle fotografie macchiaiole e ritraggono lo stesso uomo una volta mezzo busto e una volta figura intera mezzo busto piuttosto tradizionale come immagine ne posso di tre quarti figura intera è molto caratteristica perché lui si appoggia a questa balaustra questa è una balaustra di studio del fotografo si è tolto la giacca l'appoggiata sulla balaustra è in panciotto tiene in mano un sigaro e sulla giacca è appoggiato un cilindro bianco e allora a me ma la cosa importante sotto la fotografia è firmata da Achille Batelli a me è venuto in mente che il personaggio che gravitava nel gruppo macchiaiolo ricordiamoci che la fotografia appartiene al fondo vitali che raccoglie tutte fotografie del gruppo macchiaioli e questo personaggio unico è assolutamente identificabile andiamo un po' più giù magari guardiamo sotto è fotografato tantissime volte Alessandro scusami fotografato tantissime volte in compagnia dei suoi amici col cilindro bianco con il sigaro in bocca è Diego Martelli e cioè il personaggio più importante dal punto di vista di mecenatismo di rapporti con con l'estero con altri artisti di aggiornamento per gli amici del suo gruppo che dunque abbiamo ritratto anche nelle foto fatte da Achille Batelli che è il fratello di spirito Batelli cioè lo zio di Virginia per intenderci gravitavano tutti nella casa di Piagentina se andiamo ancora a guardare le altre foto ecco le più giù Alessandro ecco e questi è appunto l'accostamento con le foto precedenti guardate le ultime due in cui in una indossa il cappello quella con la tuba bianca indossata una foto a Linari e quella è la foto di Achille Batelli che è anche molto scansonata molto particolare se Achille Batelli faceva il fotografo Lega nel villino di Piagentina oltre a frequentare gli altri numerosissimi fotografi che c'erano a Firenze in quegli anni a partire dagli Alinari del 52 erano stati aperti infiniti studi fotografici Malega aveva lì vicino il fotografo e dunque per lui la fotografia a questo punto diventava da una parte aggiornamento professionale come per tutti gli artisti dell'epoca anzi si è parlato sempre del rapporto dei francesi con la fotografia e l'oreca ne parla negativamente già ancora nel 1926 del rapporto con la fotografia di Lega cioè è un aggiornamento è un confronto dovuto è un procedere di pari passo ciascuno con i suoi mezzi e Lega amava molto la fotografia amava farsi fotografare e la foto successiva è una foto molto nota che ritrae Silvestro Lega da solo appoggiato al muro probabilmente del villino Batelli in una posa scanzonata quasi come quella di Martelli perché vedete incrocia la gamba sinistra sulla destra porta il peso sbilanciato sul muro tiene in testa al cappello da ricordare che Lega ci teneva molto nonostante le condizioni economiche precarie ci teneva molto a vestir bene e ad apparire un giovanotto e a non rivelare la sua età tant'è vero che quando Martelli gliela chiede lui risponde devo chiedere a mia sorella Eleonora perché non lo so neanch'io e poi è rimasto un mistero questa sua età finché non è stato scoperto il certificato di morte ancora tinti nel 22 quando scriveva la recensione per la primaverile fiorentina di quell'anno diceva che Lega era nato nel 1828 quindi gli toglieva due anni poi è stato ritrovato questo certificato di nascita che tra l'altro è conservato a Modigliana e adesso tutti sappiamo che Silvestro Melchiade è nato nel 1826 l'8 di dicembre questa foto però non è di Achille Batelli ma è una foto Borgiotti come altre che vedremo altro famoso studio fotografico di Firenze nel centro di Firenze in via Cornina vicino Piazza San Gaetano il retro della foto ci dice tutto e altro particolare di questa foto ce la dedica da Silvestro Lega a Telemaco Signorini quindi lui che è stato criticato tantissime volte da Signorini ma amato e stimato sempre probabilmente aveva donato come facevano tutti i loro macchiaioli questa sua card di visita a Signorini perché entrasse a far parte del suo album personale ma guardiamo il dipinto successivo riguardando poi le foto che ho le immagini che ho mandato perché venissero riprodotte questa è veramente una bruttissima riproduzione ma me ne scuso ma poi magari cercandovela se avete la curiosità troverete una riproduzione migliore questo è un dipinto intitolato Gli sposi novelli ed è un dipinto che ha cambiato titolo in varie occasioni a seconda di dove veniva anche esposto ed è un dipinto che mostra come tipica di Lega la società di Piagentina questa semplice umile leggente che sta tornando dal matrimonio gli sposi sono davanti c'è una bambina che applaude una signora che offre dei fiori alla sposa e poi in disparte appoggiato sul muro uno spettatore silente e malinconico che si può vedere riprende esattamente la posa che aveva signorini che aveva Lega nella foto dedicata ai signorini quella foto che abbiamo appena guardato il piede sinistro incrociato sul destro appoggiato al muro quindi la figura sbilanciata il cappello a larghe tese che scherma un po' il viso crea dell'ombra sul viso i baffi evidenti e dunque è del tutto lecito pensare che la fotografia gli abbia offerto lo spunto per realizzare questa figura che ancora una volta poi va a stagliarsi anche contro l'oscurità di quel portone aperto sempre parlando di fotografia era ovviamente doveroso che io ricercassi le pochissime fotografie che ritraggono Virginia Batelli cioè l'amore di Silvestro Lega e sono fotografie molto note pubblicate questa in particolare è la fotografia che mostra Virginia in compagnia della sua famiglia Virginia è seduta la prima a sinistra in piedi è il padre spirito seduta la madre Paolina Cerretti e in piedi la sorellina Adolfina allora la foto non è datata ma la si può datare proprio per la presenza di Paolina Cerretti la madre che morirà nel 63 e quindi questa foto è sicuramente anteriore al 63 è una data anche quella e poi di questa foto mentre in quell'altra c'era la dedica signorini di questa foto c'è una cosa bellissima sul retro c'è scritto famiglia Lega e una foto Borgiotti anche questa allora non è dato sapere chi abbia scritto ciò chi abbia scritto famiglia Lega può essere stato signorini perché questo si trova alla Marrucelliana quindi appartiene al fondo signorini può essere stato Vitali quando queste foto sono passate a lui può essere stato un archivista mi piacerebbe pensare che sia stato lo stesso Lega guardando la grafia della L però lasciamola come ipotesi romantica però chiunque sia stato ha colto in pieno il fatto che questa famiglia Batelli fosse diventata la famiglia Lega cioè che lui non fosse più solo un ospite ma che fosse entrato a far parte della famiglia attivamente guardiamo la foto sotto io poi datemi voi dei tempi questo è il particolare ingrandito da sinistra è il particolare ingrandito della foto in cui Virginia è seduta al centro è il particolare ingrandito del canto dello stornello con la pianista che tutti riconoscono unanimemente essere Virginia e a destra è il viso della dama bianca allora in tutte e tre queste immagini la donna ha delle caratteristiche riconoscibili ha i capelli ricci e scuri li ha legati in crocchia dietro alla scriminatura centrale e questi riccioli fanno un po' da da corona alla fronte ampia e due sono di profilo tra l'altro la pianista e la fotografia sono un profilo speculare la dama bianca ha la grazia di voltarsi verso di noi di mostrarci tutto il suo viso ma poi dopo guarderemo altri altri particolari ancora la foto più in basso la successiva è un'altra foto che ritrae lega con la famiglia Batelli allora da sinistra abbiamo Silvestro poi Virginia poi la mamma Paolina la sorella Adolfina e Dante il fratello uno dei due fratelli minori che per un certo periodo sono andati a vivere con Silvestro in casa Batelli e l'altro Ettore quello del famoso ritratto questa è sempre una fotografia del fondo Signorini proveniente dalla Maruccelliana la Maruccelliana me l'ha mandata così in realtà sarebbe più ampia sulla destra e quando ho chiesto la riproduzione mi ha mandata tagliata c'è una bambina ancora in quel vano di porta e anche questo rapporto con la fotografia questa immagine di Virginia che tiene l'ombrellino nero per ripararsi dal sole perché qui siamo in una bella giornata di sole e probabilmente siamo a mezzogiorno come si vedono queste ombre cortissime e scure ai piedi dei personaggi se scendiamo un attimo guardiamo la successiva ho fatto un montaggio in questa mettendo al centro del dipinto il particolare della foto di Virginia e anche qui è evidente che c'è uno spunto c'è un collegamento tra le due immagini non solo per la posizione ma anche per il tipo di abito indossato da Virginia nella foto e nel dipinto questo abito molto elegante semplice lucente con il colletto bianco con questa gonna molto ampia a campana cambia leggermente la posizione delle braccia perché ovviamente nella foto lei offre il braccio alla mamma perché si appoggi e tiene l'ombrellino con l'altra mano nel dipinto tiene l'ombrellino con la stessa mano e invece il braccio è proteso per dare l'elemosina a quella donna anziana che è posta all'estrema destra da tenere presente anche che questo dipinto intitolato l'elemosina è stato fatto nel 64 e la foto precedente se abbiamo sempre Paolina viva la foto è precedente al 63 quindi viene prima la foto e poi arriva il dipinto il dipinto in originale in origine cioè quando è stato creato era più largo di 40 cm nel senso della larghezza dico questo perché la figura di Virginia con le dimensioni originali della tela si trovava esattamente a metà di questo dipinto e dunque era un modo anche per per enfatizzare la sua donna amata il prossimo capitolo si intitola di profilo e di fronte i primi ritratti femminili non ho riprodotto tutte le opere che ci sono nel libro dico rapidamente che nel periodo di Piagentina lega pochissimi ritratti femminili a figura intera e due di questi ritratti che non ho messo qui da mostrare sono due piccole tavolette in cui la figura femminile è di profilo non le ho messe anche perché sono molto scure le riproduzioni perché sono fatte da libri perché sono dipinti di collezioni private uno pubblicato da Giardelli e un altro pubblicato da Durbet uno firmato e uno no ma in cui la sagoma di queste donne è una sagoma poco visibile proprio per le caratteristiche di dimensioni di colore eccetera ma quello che mi ha colpito più di tutti è proprio questo dipinto che è questo che è un dipinto intitolato ritratto di signora ritratto di donna che è stato esposto per la prima volta da Durbet nel 1973 alla mostra di Bologna una grande mostra si può dire forse la più grande mostra dopo quella del 26 in cui Durbet che era curatore anche del catalogo del saggio relativo diceva questo dipinto non è stato unanimemente ritenuto di Silvestro Lega ma si è ritenuto di esporlo è firmato in basso e sinistra si è ritenuto di esporlo per la sua alta qualità poi nel 2011 un'altra studiosa Anna Ottani Cavina lo ha ripubblicato ormai riconducendolo definitivamente a Silvestro Lega infatti nella didascalia si legge Silvestro Lega quindi questo dipinto è stato aggiunto al catalogo di Lega entrato a far parte di questo catalogo e mi ha colpito moltissimo perché la posizione delle due donne è identica cioè è proprio la stessa posizione in piedi leggermente di tre quarti la mano sinistra che va a toccare la fushacca la destra appoggiata sulla sedia la signora nel dipinto a sinistra tiene in mano un librettino poi sulla poltrone ha appoggiato uno scialle molto ricco la poltroncina è anche una poltroncina imbottita ed è un bel ritratto ufficiale probabilmente un ritratto su commissione un ritratto in cui Lega ha voluto rappresentare lo status di questa signora ovviamente nel suo stile perché è pur semplice questo stile perché sulla parete non c'è niente il tono della parete è un tono verdino come quello della dama bianca ma poi guardando la dama bianca questo il dipinto a sinistra è stato datato per affinità stilistiche con ritratto di Ettore al 55 56 quindi un po' prima che Lega iniziasse a frequentare Piagentina se la dama bianca come io ritengo è databile tra il 67 e il 68 vuol dire che in dieci anni Lega effettivamente ha fatto un balzo di stile questo è lo stile tradizionale ancora rilevabile nei dipinti precedenti alla fase macchiaiola e la dama bianca è pienamente macchiaiola a mo' di Lega diciamo andiamo avanti io chiedo scusa voglio fare un breve intervento perché ecco questa esposizione è molto interessante ma volevo fermare in questa in questa foto che avevo appunto comparata che era stata appena esposta da Antonella io notavo come assodanza anche quell'arancione quell'iva arancione che c'è appunto sia nella sedia nella sciarra che appunto nella nella parete quindi questa leggera insomma striscia che si intravede ecco nel libro è molto più chiara rispetto a questa foto quindi un'assodanza cromatica molto ecco che richiama molto ecco accosta molto da vicino queste due opere e mi fa ecco venire in mente a tutto un tema insomma come quello del protocollo di attribuzione che normalmente le fondazioni ecco diciamo attuano per poter ecco fare questo genere di attribuzioni no quindi diciamo tre gradi di prova il primo chiaramente è un grado legato all'occhio dell'esperto quindi comunque l'occhio che già ecco l'espertise già comunque è molto importante poi tutto una seconda ecco il livello di prove seconde che è quello di un correddo documentale per poi arrivare le prove terze che sono quelle proprio di natura veramente scientifica come quello che comunque è anche oggetto anche dell'attenzione del nostro centro legata proprio a tutto quelle che sono le prove scientifiche chiaramente legate a una pluralità di discipline tra cui appunto quella dell'arte quindi tutte le prove legate ai pigmenti agli esami radiografici e tutto il resto e qui ecco fermandoci a quello che è un primo livello quindi quello dell'impatto dell'opera dell'esperto e io mi ricollego al tuo Antonella che hai fatto questo diciamo che ha avuto questa intuizione di poter fare questa attribuzione a un dipinto diciamo così ritrovato in una collezione privata mi ricollego proprio anche a questi aspetti come quello delle tonalità dei colori come dicevi tu anche il verde dello sfondo e quindi trovo molto interessante e molto attinente questa tua analisi particolarmente riferita a queste foto e mi chiedevo che importanza avesse quella della prova scientifica nella tua analisi nel tuo testo rispetto all'attribuzione dell'opera della Dama Bianca a Silvestro Lega quindi questa era la domanda che mi permette di interrompere a tua esposizione per poter chiedere questa precisazione perché va un po' nel traiettore del nostro centro di altri studi Antonella il microfono dovresti riattivare il microfono per protesia sono non ricordo se l'ho già detto ma il dipinto forse non l'ho detto appartiene a una giovane signora di 88 anni molto energica che che ha tenuto gelosamente e conservato con tanto amore questa sua collezione di opere ereditate dalla famiglia per cui devo dire che anche portarlo a Modigliana quando io ho presentato il dipinto e il saggio l'ho portato a Modigliana è stata una sofferenza per lei staccarsene certamente l'ho già detto il dipinto andrebbe non solo restaurato ma a mio parere andrebbe anche sottoposto a tutte quelle prove delle radiografiche che consentono adesso al giorno d'oggi di penetrare dentro sotto la superficie per poterlo vedere e quindi spero che questo passaggio poi venga fatto perché sono io ho sostenuto queste cose però bisogna effettivamente anche tener conto dell'età della proprietaria e ripeto dell'affetto con cui ha custodito tutto ciò che le è stato tramandato non ricordo più dove eravamo sì eravamo qua a questa l'immagine comparata delle due opere e poi stavi andando avanti con l'esposizione con l'immagine successiva mi ha detto questo titolo questo titolo invece è mio non è la citazione di nessuno perché partendo dal punto dal raffronto di quei due dipinti del ritratto di signora e della dama bianca notavo questa differenza di ambientazione pur nella semplicità che caratterizza Lega e questo dipinto il successivo intitolato le bambine che fanno le signore è il dipinto che immediatamente guardiamolo per favore Alessandro che immediatamente mi è venuto in mente quando ho avuto la mia intuizione quando ho cercato di mandare indietro questa intuizione questo dipinto è del 65 è stato esposto a Genova nel 65 ed è il primo di una serie di quattro dipinti sullo stesso tema Lega ci ritorna quattro volte facendo delle varianti la seconda versione è quasi identica alla prima solo dei colori più intensi e le altre due sono invece molto diverse perché sono molto più ricche di particolari di colori di tappeti però io pensavo a questa guardando la dama bianca perché questa che è molto carina come opera tra l'altro a Genova ebbe un discreto successo e infatti Lega mandava spesso le sue opere a Genova perché lì riusciva ad avere quel successo che a casa non aveva Firenze non aveva e gli avevano anche scritto una recensione molto carina una delle poche carine recensioni sui dipinti di Lega alle sue mostre e un anonimo non è dato trovarle firma però dice questo soggetto infantile è trattato con tale verità con tale suavità che l'animo si sente dolcemente richiamato alle care memorie della domestica tranquillità e quando un artista giunge a far battere il cuore o ad almeno a far pensare lo spettatore può andar contento e insomma per le critiche terribili che lui riceveva questa era una buona critica in cui il recensore aveva dimostrato di aver colto l'aspetto sensibile affettuoso di Lega che riusciva poi a trasmettere attraverso le sue opere che cosa mi ha colpito di questo dipinto l'ambientazione è ovvio che qui ci sono più personaggi ci sono più arredi ma sono sempre pochi di confronto a quello che il pubblico borghese avrebbe gradito infatti di questo nonostante quelle belle parole sull'affetto poi dice certo l'arredo è un po' spoglio la stanza un po' povera però vediamo una stanza con il pavimento di cotto illuminata da una finestra non visibile una porta con l'anta succhiusa in questo caso la servetta si appoggia a quell'anta è lei che ha travestito le bambine quindi non si fa vedere però vuol vedere la reazione della mamma alla vista delle bambine travestite da signora e se andiamo giù Alessandro le analogie con la dama bianca sono proprio in quegli elementi mi ha colpito molto la forma dell'ombra il tipo di ombra proiettato sul muro e finisce poi con quella punta in tutti e due i dipinti l'anta succhiusa in quel caso non possiamo vedere la toppa perché la serva ha poggiato sulla mano l'anta succhiusa nella nella dama bianca e poi questo è il dipinto che subito mi era venuto in mente e che continua a convincermi perché se non è la stessa stanza perché ci sono delle differenze nelle moda natura delle pareti magari le ha volutamente cambiate è sicuramente una stanza analoga sicuramente il motivo della porta succhiusa quell'ombra proiettata in quel modo con quella incidenza sul muro e ci ritorna lega alla porta socchiusa non è solo lui che dipinge porte socchiuse anche Borrani anche Abatti le dipingono ma non con queste ambientazioni così sempre così essenziali il dipinto successivo Alessandro è un dipinto che si intitola la lezione o l'ora della lezione a seconda di come è stato presentato nelle varie mostre è stato datato variamente dal 65 al 75 quindi Tinti l'aveva datato 65 Durbella data 70 Matteucci di cui non ho ancora parlato ma poi parlerò perché merita davvero la riscoperta di Lega la sistemazione di tutto il catalogo leghiano nell'87 è stata fatta da Giuliano Matteucci Matteucci l'ho data al 75 per cui questo dipinto oscilla nell'arco temporale di dieci anni qui ritorna la porta socchiusa ritorna come unico arredo visibile la sedia c'è un protagonista in primo piano che è il bambino che sta facendo i suoi compiti l'ora della lezione e poi dietro la porta socchiusa vediamo una figura femminile nell'ombra anche questa riproduzione è così ma è così su tutti i libri anche molto scura bianco e nero quella quella figura femminile ha questo tocco di bianco incredibile sulla testa per cui è resa visibile anche nonostante l'ombra anche grazie a proprio quel minuscolo tocco di bianco che può essere una cuffietta che aveva sul capo in questa stanza la luce proviene da destra e dunque porta l'ombra sinistra l'ombra della porta aperta e anche la sedia proietta la sua ombra sul muro dicevo anche altri hanno rappresentato questi particolari ma lo stile e l'essenzialità sono soltanto quelli di Lega altri aggiungono altri elementi che arricchiscono gli arredi che rendono più di genere l'immagine Lega è sempre il pittore di questo silenzio un po' metafisico in cui i personaggi sembrano fermi immobilizzati molti hanno parlato di quattrocentismo per tanti macchiaioli molto per Lega di riferimenti a Piero della Francesca è vero questo silenzio sospeso questa solitudine dei personaggi ricordano molto da vicino i macchiaioli studiavano accanitamente i quattrocentisti e poi c'era stato anche il periodo in cui si erano appassionati dei fiamminghi da cui quei tanti particolari definiti nel dettaglio che troviamo nelle opere di Lega ma anche nelle opere di Borrani e anche di altri quindi tutto questo converge nella sua pittura la foto successiva ecco la foto successiva siccome il capitolo si intitola Ambienti Ombre e Fisionomie gli ambienti e le ombre le abbiamo viste le fisionomie arrivano o ritornano ancora qui ancora accostato alla pianista del canto dello stornello non ho messo il dipinto nel libro c'è il dipinto nella sua totalità però tutti lo conoscono credo che sia universalmente noto e poi sotto l'altro accostamento il bellissimo ritratto di Ettore che a Brera al momento è sospeso nei gabbioni di vetro in attesa di andarsene a Palazzo Citterio e poi sfortunato perché lo mettono sempre in alto per cui non si può leggere bene soprattutto adesso nelle vetrine in vetro all'ombra che li copre totalmente il volto io chiedo scusa volevo fare un piccolo intervento ecco su questo aspetto della fisionomia quindi chiederei a Marco visto che comunque anche lui ha avuto modo di approfondire tutto il tema della fisionomica e quindi ecco vedere un pochettino questi appostamenti che ha fatto Antonella che per me sono molto interessanti e anche illuminanti rispetto alla lettura dell'opera e a Marco un po' ecco una chiedertura legata alla fisionomica ecco se si può tornare un macchino indietro rispetto alle due foto quella di profilo e quella ecco di tre quarti se mi poteva ecco dare una piccola chiave di lettura rispetto al tema della fisionomica perché secondo me è uno spunto molto utile che ci aiuta ecco grazie grazie Simone io mi scuso perché ho una tosse man mano mi è salita oggi probabilmente con l'edizione mi scuso molto e quindi ogni tanto mi vedete paonazzo trattengo ma insomma spero di non disturbare la bellissima lettura appunto di Antonella ma allora la cosa che a me ha veramente toccato ma quasi sconvolto devo dire perché la capacità di Antonella di trovare nei repertori catalografici e naturalmente fotografici d'epoca archivio ordinaria città ma insomma ci sono almeno tre grandi archivi dove solo scartabellare bisogna dire che atterrisce solo avvicinarsi non so cosa vuol dire quindi mi complimento davvero ma soprattutto l'attenzione nel trovare perché una fotografia non è facile perché cambiano naturalmente i registi cambiano i nastri cambiano le pellicole in pochissimo tempo i valori anche di trasferimento dell'immagine eccetera ritrovare grazie proprio alla capacità di lettura fisiognomica le stesse figure quelle figure sotto adattamenti di luci diversi di tempo diverso erano pellicole che non avevano la sensibilità minimamente di quella che possiamo immaginare oggi evidentemente e quant'altro era più facile trovare due copie diciamo nello stesso dipinto simile o analoghe che non due fotografie dello stesso ritratto e quindi già quello chapeau veramente mi complimento perché è un'operazione incredibile incredibile ma poi soprattutto questo ritratto ha di una veramente questo questo sguardo che è lo sguardo che arriva proprio quello sguardo che a me ricorda fatalmente insomma quello quello sguardo della giovane annunciata di lotto per esempio no? quella di di Recanati nel senso che questa bambina che appena scopre come dire la sua vera identità evidentemente la è la madre di Dio poco niente poco di meno e in questo caso scopre come dire la sua sensibilità è la madre dei sentimenti direi questa dama bianca evidentemente anche un'allegoria evidentemente dei sentimenti questo si capisce io mi sembra di io torno adesso dal prado insomma e certi dipinti di goia quella freschezza nello sguardo appunto quella come dire quello sguardo rivolto dentro all'interno ai propri sentimenti questa dama bianca lo raccoglie e lo raccoglie con una sensibilità secondo me inarrivabile insomma veramente inarrivabile quindi ecco ancora una volta poi naturalmente il ritratto di tre quarti vuol dire già nel repertorio iconografico vuol dire questa cosa normalmente è quel appunto ritratto che parte Antonello da Messina che evolve con Giorgione l'otto eccetera ed è proprio il classico ritratto appunto dei sentimenti chiamiamolo quindi grazie ancora ecco per questa domanda interessantissima grazie a te Marco adesso posso fare una domanda ad Antonella io vorrei fare una domanda ad Antonella posso? prego prego Alessandro prego no io volevo chiedere ad Antonella questo vedo in questi dipinti certamente la solitudine come lei ha detto ma una solitudine serena non vedo il dolore esistenziale della vita che pure magari molte volte nelle opere d'arte si vede cioè dietro questa solitudine che è quasi un protagonismo da un certo punto di vista non si evince il dolore dell'esistenza che è un po' la caratteristica della fotografia che è un po' quasi che tutti fossero messi in posa per fulminare l'attimo piuttosto che prendere il divenire dell'epoca storica non so se questa mia impressione è corretta Antonella è corretta è corretta questa intruzione è corretta ed è stata osservata anche da altri soprattutto pensando agli anni in cui Lega ha fatto questi dipinti per esempio il canto dello Stornello nel 67 lui era già in casa Batelli frequentava casa Batelli dal 61 nel 67 era stato un anno di lutto per la famiglia Batelli era morta Adolfina la bambina che abbiamo visto nelle fotografie muore di Tisi nel 59 era morta Ernesta nel 67 muore Adolfina nel 67 Lega dipinge il canto dello Stornello che apparentemente quanto di più sereno era serenante non è sereno il dipinto era serena chi guarda il dipinto quella luce quel silenzio nonostante la presenza del piano nonostante la pianista stia suonando e le ragazze stiano cantando evidentemente lui riusciva allenire i suoi dolori proprio attraverso questo rapporto d'amore perché quello che che colpisce delle opere di Lega è che quando dipinge persone care quando dipinge ritratti sempre lui non si limita alla somiglianza fisionomica ma dà la caratterizzazione psicologica del personaggio riuscendo a capire il personaggio ma quando dipinge persone care per questo ho fatto questo accostamento anche se il ritratto di Ettore è datato 56 55 56 e la dama bianca dovrebbe essere nel 67 68 a mio parere quando dipinge persone care è come se catturasse di queste persone l'anima i sentimenti e riuscisse a instaurare con loro questo rapporto rasserenante ma che mantiene questo fondo di malinconia sempre per cui il dolore grave non lo avvertiamo la malinconia sì ho risposto alla domanda Alessandro il mio microfono funziona benissimo hai risposto benissimo io avrei detto anche un'altra frase del tipo mi sembra di vederci di vedere i protagonisti ma non la storia no? in qualche modo non il processo storico quanto piuttosto i protagonisti di un di un momento però è proprio quello che tu hai indicato secondo me da quello che percepisco io nella mia incompetenza diciamo è proprio questo che tu hai indicato la malinconia la solitudine e la malinconia sì ma il dolore esistenziale no grazie e allora il primo accostamento secondo me mostra la stessa donna che sembra che si stia voltando dopo dopo aver suonato il canto dello stornello sembra che si volti e ci guardi a me ha dato questa impressione perché tra l'altro a proposito di dettagli particolari minuti colti da lega se noi guardiamo l'attaccatura dei capelli del pianista del canto dello stornello è identica nella dama bianca identica la forma dell'orecchio il lobo dell'orecchio il padiglione alto e il lobo dell'orecchio ben attaccato al viso le sopracciglia la fronte questi riccioli che sono teniamo presente che la dama bianca non è stata pulita quindi probabilmente dopo la pulitura usciranno ancora degli altri colori ancora più splendidi di quanto non appaiano ora e poi dicevamo il retratto di Ettore Fanciullo che se poi lo confrontiamo con quello della signora che abbiamo guardato prima il ritratto di signora quello dubbio e poi attribuito a lega quanto è più moderno questo ritratto oppure sono datati agli stessi anni la signora è stata datata per motivi stilistici agli stessi anni del ritratto di Ettore ma quanto è moderno questo Ettore è incredibile cioè è confrontato con la dama bianca così in cui noi non vediamo la stanza vediamo solo lo sfondo neutro quanto sono simili come impostazione i tre quarti speculari il modo di rivolgersi all'osservatore con quello sguardo di sicurezza tranquilla sono sicura ti posso guardare mi vuoi bene e anche io ti voglio bene sembrava uno sguardo di amore e affetto reciproco il sorriso che è proprio accennato minimamente accennato in tutti e due ma c'è questa forza questa sicurezza di quello che mi chiedeva Alessandro prima e poi guardiamo nel ritratto di fratello Ettore del fratello Ettore l'abito come fiammingamente è definito è una casacca da bambino semplicissima eppure ci sono le cuciture visibili i bottoni ben evidenziati ben rappresentati quel tocco nero a contrasto sempre in opposizione con i chiari che abbiamo visto tante volte usare da Lega abbiamo visto usare anche da Boldini e il tono della casacca che diventa anche il tono della pelle del bambino attento alla lucentezza del fiocco attento alle ombre alla morbidezza del tessuto della casacca attentissimo all'abito della dama bianca perché l'abito della dama bianca è fatto con dei tessuti particolari la mussola le sete i ricami qui con la fotografia tagliata riusciamo a vedere anche la lucentezza della fibbia d'argento che stringe e rende sottile la vita e vediamo bene la scollatura che è coperta appena da questo velo sottilissimo allora questo è un'altra un altro bell'enigma che mi ha posto la dama bianca perché quest'abito non c'è non lo indossa nessuna delle donne macchiaiole non lo indossa nessuna delle donne di lega che noi conosciamo finora è un abito particolarissimo e se vogliamo se vogliamo collocarlo in quell'ambiente borghese un po' timido un po' conformista della casa Batelli è un abito anche un po' osè perché ha delle trasparenze inusitate negli altri dipinti noi abbiamo visto Virginia vestita o nelle fotografie con degli abiti molto pesanti una delle ragazze nel canto dello stornello ha una bellissima camicetta di seta ma non è trasparente non lascia vedere la pelle al di sotto e allora Alessandro andiamo avanti sono andata a cercare un abito che potesse essere come quello della dama bianca e ho trovato niente meno da piagentina dobbiamo andare fino a Fontainebleau e trovare l'abito di Lisa l'abito di Lisa dipinto da Renoir un dipinto bellissimo di Renoir del 67 e poi esposto nel 68 al Salon Parigino e ottenne un incredibile successo fortunato lui recensioni prestigiosissime sulla bravura di Renoir nel trattare i diversi toni del bianco e questo è un dipinto a grandezza naturale un metro ottante a passa di altezza quindi così come sono accostate le due foto sembrerebbe il contrario è da tenere presente che quello di Renoir ha queste dimensioni colossali però quest'abito di Lisa è proprio molto molto simile a quello della dama bianca perché perché ha questa gonna che non ha gli buffi le balze che hanno gli abiti un po' frivoli ottocenteschi non è neanche troppo ampia aderisce al corpo ha una fuschacca nera in vita che arriva fino in terra nel caso di Lisa e ha le stesse maniche trasparenti gli stessi ricamini ai polsi allo scollo a incredibile ma vero la francese Lise ha uno scollo più morigerato di quello della dama bianca perché alla dama bianca si vedono completamente le spalle mentre la trasparenza sul busto di Lisa è limitata alla parte alta del busto stesso e poi ovviamente Renoir ha questa felicissima intuizione di collocarla all'aperto nella foresta di farle tenere questo ombrellino per cui il viso va in ombra e tutta l'attenzione è portata a quest'abito che poi immaginiamocela nella grande dimensione deve essere davvero un faro di luce però guardiamo la dama bianca è una trascrizione quasi fedele quasi puntuale di quest'abito è semplificato è accorciato è reso più pratico in questo modo anche la fuschacca è più corta la dama bianca porta la fibbia d'argento perché questa è la moda toscana Lisa l'annoda alle spalle e porta in avanti questa fuschacca con grande civetteria la dama bianca appena appena un piccolo strascico che è portato avanti con poca civetteria è la differenza anche tra le due personalità Elise era la modella e anche l'amica di Renoir è stata la prima modella e l'amica di Renoir Virginia era la donna amata da Batelli non abbiamo detto finora forse neanche tu Marco non mi ricordo che Virginia era separata dal marito si era sposata a 16 anni poi il matrimonio era stato sfortunato lei era tornata a casa dei genitori e lì poi aveva conosciuto Lega e questa ovviamente era una condizione assolutamente indicibile e impensabile per quei tempi per cui la loro relazione è stata anche per questo molto tormentata non potevano manifestare apertamente il loro amore non potevano dirlo tutti lo sapevano tutti gli amici del gruppo dei Macchiaioli del gruppo di Piagentina lo sapevano infatti quando si scrivevano mandavano sempre i saluti a Lega e alla signora Virginia e quando le lettere sono posteriori al 63 la signora la signora Batelli resta solo lei perché la mamma era morta intanto e quindi quest'abito sembra posso veramente rompere tente guarda visto che approfitto dell'immagine che è scomparsa per farti una domanda che per me è molto interessante proprio quando tu parlavi adesso di gruppo e di scuola quindi comunque quando si attribuisce Scusa Simone Sì Simone scusa ma vi voglio annunciare che abbiamo due minuti Sì infatti infatti proprio proprio per concludere questa cosa poi voglio parlare del tema del gruppo e della scuola quando si parla di attribuzione quindi ecco questa è un po' anche per concludere questa bellissima spedizione che ecco lanciamo un assist ad Antonella su questo quando ecco c'è questa differenza tra un gruppo e una scuola quando si arriva poi ad arrivare ad un'attribuzione ecco in maniera definitiva come hai fatto tu insomma in questa tua pubblicazione Non è il microfono acceso Antonella Non ho capito la domanda No dice tante volte a volte forse Marco puntualizzera meglio ci sono tante volte si parla di gruppo c'è un artista che appartiene a un gruppo quindi un gruppo artistico piuttosto che un artista che appartiene ad una scuola quindi come si parla della scuola di Tiziano scuola di eccetera eccetera quindi come si parla di un gruppo di Macchiaioli piuttosto che della scuola di non so di Lega nel senso piuttosto di un'altra cosa quindi questa è la domanda specifica la scuola di un grande artista come si parla di un artista di Tiziano eccetera insomma quindi questo era il discrimine che volevo un attimino a cui volevo arrivare per concludere questa tua bellissima esposizione allora se ho capito bene tu mi dici dare l'attribuzione a un preciso autore o piuttosto collocarla nell'ambito di è questa la domanda sì esattamente questa questa no io l'avevo detto in principio sono partita tenendomi tranquilla e dicendo è di ambito un macchiaiolo ma man mano che sono andata avanti nella ricerca ho scartato l'ambito mi restava soltanto lega capisci la prima intuizione è stata quella poi ho cercato di vedere se effettivamente potesse valere e alla fine ho ritenuto che potesse valere e quello che tu hai detto prima delle indagini sicuramente potrebbero essere un aiuto anche per esempio banalmente per quelle due macchie così simmetriche che ci sono sul telaio che potrebbero essere delle sigle perché magari ripulendolo quante volte in quanti dipinti di non solo di lega ci sono tracce di firma che poi sono state cancellate qui c'è uno strato di sporco che risale a 160 anni fa si è fatto bene i conti grazie Antonella prima di salutarci tutti ti ringrazio moltissimo per questa disamina non sono arrivata alla fine però voglio dire prima di arrivare alla fine posso dire una cosa rapidissima lavorando all'archivio facendo il topo d'archivio a Modigliana dove ho avuto un'accoglienza eccezionale persone veramente squisite mi hanno messo a disposizione tutto quello che potesse essermi utile in particolare l'allora assessore alla cultura la professoressa Continelli e l'allora sindaco Valerio Roccalbegni frugando tra queste cose ho trovato molto interessanti e questi sono posti alla fine del mio libro delle fotografie che ritraevano le sale della mostra del 1926 queste fotografie stavano lì non so quando fossero poi riemerse però io me le sono fatte scansionare me le hanno scansionate e osservandole con la lente di ingrandimento sono riuscita riesco a far andare velocissimamente le immagini fino in fondo posso ho tempo per farle vedere o no no abbiamo guarda siamo molto fuori la mia preoccupazione allora niente basta finisco ho trovato un dipinto che Matteucci si continuava a rammaricarsi fino a che poi non è stato ritrovato che non si sapesse niente di questo dipinto e seguendo il catalogo di tinti e le fotografie ho ricostruito tutta la disposizione dei dipinti almeno di quasi due sale perché ho ritrovato soltanto tre fotografie però sono riuscita a ricostruire come erano disposti i dipinti dove era questo dipinto del generale Cialdini come è fatto che dimensioni ha e ho ritrovato due dipinti che pure mancavano nel catalogo di Matteucci non come dipinti ma come dimensioni perché dal confronto con gli altri ho potuto ricostruire le dimensioni e quindi credo che sia stata una ricerca molto fruttuosa in questo senso e mi auguro di poter andare avanti perché ce ne sono ancora da pubblicare di documenti e soprattutto mi auguro che il prossimo 26 a Modigliana si possa replicare una mostra altrettanto bella per il duecentesimo della nascita di Lega Te lo auguro di cuore Antonella grazie ancora per questo tuo meraviglioso lavoro immagino poi l'ha scoperta man mano che trovavi questi documenti che cosa vuol dire ma ce lo diremo poi insomma più perché è davvero la superta grazie grazie ancora grazie Alessandro per l'ospitalità grazie Simone per l'introduzione io vi ringrazio per questa bellissima lezione che ci ha dato un'idea molto forte di quanto è la dimensione culturale diciamo artistica italiana ma anche oltre Italia e quanto è importante fare questi webinar mi impegno adesso che il lockdown è imparzialmente finito a cercare un circuito di presentazione anche dal vivo magari presentando dei libri in sale particolari a Roma a Napoli o anche in provincia e per fare in modo che queste bellissime discussioni poi abbiano la possibilità di avere un pubblico diciamo in diretta in aula intanto vi ringrazio ringrazio per questa vostra disponibilità e vi aspetto al prossimo incontro grazie alla prossima buonanotte ciao 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 ciao